Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi pomeriggio stavo tentando di mettere a posto i cassetti di un mobile che tengo sotto al televisore e mi è capitato tra le mani un film vecchio, perché è un film del 2002, che avevo visto al cinema con il mio compagno tanti anni fa e che mi aveva colpito tantissimo. E quindi ho pensato, perché non fare un video su questo argomento? Il film in questione è Magdalene. È un film che probabilmente qualcuno di voi ha visto, comunque è un film che quando era uscito aveva avuto un discreto successo, perché comunque aveva vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia e inoltre è stato un film molto chiacchierato, perché comunque era un film denuncia e diciamo che la Chiesa non era stata troppo felice di questo film, perché appunto questo film andava a denunciare qualcosa che comunque riguardava la Chiesa Cattolica. Ma andiamo con ordine, perché prima io vi volevo raccontare un pochino che cosa sono le case Magdalene, che cosa erano, perché per fortuna non ci sono più, e poi vi racconto il film. Prima di tutto vi voglio dire che io su questo argomento avevo già fatto un video, quindi sul mio canale c'è già un video simile, però è un video che avevo fatto proprio all'inizio, quando io ho aperto il canale. Era uno dei primi video, forse il quarto o il quinto video che avevo messo, quindi insomma diciamo che è un video che non mi dà troppa soddisfazione, perché comunque io adesso che ho il canale da un po' di mesi e carico video praticamente tutti i giorni, quelli che avevo messo all'inizio, quando li riguardo, insomma mi metto un po' le mani nei capelli, però se siete curiosi e volete andare a vederlo, siete liberi di farlo. Quindi diciamo che qualcosina avevo già portato sul canale, però adesso in particolare volevo darvi qualche dettaglio in più e soprattutto farvi la recensione del film. Brevemente le case Magdalene erano dei conventi che venivano gestiti da suore e all'interno di questi conventi c'erano delle lavanderie. In queste lavanderie lavoravano delle ragazze che erano le cosiddette ragazze perdute, cioè ex prostitute, ragazze madri, tutte quelle ragazze che comunque non venivano ben viste dalla chiesa cattolica perché nel loro passato c'era un evento, un fatto, insomma c'era qualche cosa che non era, diciamo così, considerato un fatto da buone cristiane. Quindi venivano messe in questi conventi e diciamo riabilitate, tra virgolette, per essere poi reinserite nella società. Questo in teoria, perché poi in realtà in pratica quello che accadeva all'interno di questi conventi era di tutt'altro genere, perché queste ragazze venivano praticamente tenute prigioniere, venivano maltrattate sia fisicamente che psicologicamente e soprattutto il fatto di essere messe in questi conventi non era una loro libera scelta ma venivano messe lì per volere di qualcun altro. Quindi la maggior parte di queste ragazze erano lì contro la loro volontà. Il motivo per cui venivano messe in questi conventi molto spesso era un motivo del quale loro non avevano assolutamente colpa. Ad esempio c'erano anche delle persone che magari avevano subito uno stupro e quindi venivano messe qua dentro ma in realtà non era colpa loro. Quindi insomma c'erano un po' di situazioni di questo genere. E questo film racconta appunto la storia di questi conventi, di queste case Magdalene. Il film in particolare riprende diciamo la storia di tre ragazze e quindi loro sono le protagoniste però poi in realtà nel film si intrecciano anche le storie di altre ragazze quindi comunque poi se guarderete il film vedrete che ci sono anche tante altre storie all'interno. Però diciamo che le tre protagoniste vengono messe in questi conventi per tre motivi molto diversi tra di loro. Una di queste durante una festa di matrimonio subisce uno stupro quindi non è assolutamente colpa sua e il giorno dopo praticamente la vengono a prendere e la rinchiudono qua dentro. L'unica persona che è dalla sua parte è il fratello però è troppo piccolo per avere voce in capitolo e quindi viene portata in questo convento. Poi l'altra ragazza che viene rinchiusa lì ha avuto un figlio fuori dal matrimonio quindi siccome non si sa che è il padre o comunque lei non lo voleva dire insomma non si è sposata e viene chiusa qua dentro e le viene portato via il bambino. E la terza è quella che secondo me diciamo è il caso più eclatante quella che comunque mi ha scioccato di più perché viene messa in questo convento per nulla semplicemente perché era carina e veniva molto corteggiata c'erano dei ragazzi che le sorridevano lei magari rispondeva al sorriso come spesso può capitare come capita sicuramente nell'età adolescenziale e per questo viene messa in questo convento infatti quando lei arriva lì non capisce perché è lì perché dice ma che cosa ho fatto cioè non mi è successo niente non ho fatto niente perché sono qui e però è lì perché comunque per la chiesa veniva considerata comunque una tentatrice e quindi viene chiusa in questo convento. Poi durante il film si vedrà come effettivamente queste ragazze vengano maltrattate, subiscono abusi anche fisici, psicologici comunque poi quando prendono un po' di confidenza tra di loro e raccontano, si raccontano diciamo a vicenda la loro storia davvero pensare che sono storie vere, che sono accadute davvero stringe il cuore perché davvero io quando guardavo questo film mi si stringeva il cuore perché pensavo a tutte quelle ragazze che davvero hanno subito delle cose di questo genere. La cosa che mi ha sconvolto di più di questa storia è che questi conventi che non vi ho detto scusate sono irlandesi cioè accadeva in Irlanda tutto questo e il film è ambientato negli anni 60 diciamo che questi conventi in Irlanda sono rimasti aperti per molto tempo e l'ultimo di questi ha chiuso nel 1996 quando io ho letto questa cosa mi sono venuti i brividi perché io nel 1996 ero una ragazzina, ero un adolescente e quindi come tutti gli adolescenti facevo tutte quelle cose che per quel tipo di società per l'Irlanda cattolica di quel tempo erano considerate cose scabrose cose che andavano punite come ad esempio sorridere a un ragazzo piuttosto che uscire con un ragazzo piuttosto che dare un bacio a un ragazzo cioè tutte quelle cose normali che tutti gli adolescenti fanno e hanno fatto e che io nel 1996 comunque facevo cioè questa cosa veramente mi aveva sconvolto perché avevo pensato oddio se io fossi nata in Irlanda e magari mi fossi comportata come mi comportavo in Italia che ripeto era un comportamento normalissimo molto sobrio perché io non ho mai fatto cose strane cose particolari ero una normalissima adolescente che faceva cose normalissime da adolescente però come dire mi aveva colpito molto perché avevo pensato magari in Irlanda tutto questo che per me è normale sarebbe stato considerato qualcosa di assolutamente inadeguato e scabroso e quindi magari sarei finita in uno di questi luoghi magari poi no però insomma non lo so comunque questo pensiero mi aveva veramente sconvolta perché mi aveva sconvolta io ovviamente quando ho guardato questo film appunto ho avuto queste sensazioni e poi l'ho considerato comunque un film fatto molto bene tanto è vero che mi sono comprata poi l'originale quindi insomma secondo me è un film che davvero ha dei buoni dialoghi ha una buona fotografia, ha una buona sceneggiatura secondo me è davvero un film da vedere se non l'avete mai visto potrebbe essere un'esperienza interessante guardare questo film anche per capire un po' quello che effettivamente accadeva nell'Irlanda di quel periodo storico quindi insomma è davvero un film che secondo me lascia qualcosa perché se vi immergete nel film pensando che quelle cose sono accadute veramente alla fine del film vedrete che avrete appreso qualche cosa dico appreso anche dal punto di vista proprio emotivo perché insomma a me ha fatto questo effetto e quindi io vi consiglio di vederlo se non l'avete mai visto credo che, non vorrei sbagliarmi, ma credo che si trovi facilmente online anche se in realtà non ho controllato però mi sembrava di ricordare qualche anno fa di averlo visto addirittura su youtube o comunque in streaming reperibile molto facilmente quindi se volete vederlo penso che non dovrebbe essere troppo difficile comunque riuscire a recuperarlo e niente ragazzi questa era la mia impressione, la mia opinione su questo film se lo avete visto magari nei commenti scrivetemi che impressione ha fatto a voi e cosa ne pensate e se non lo avete visto e magari lo guarderete dopo il mio video fatemi sapere lo stesso cosa ne pensate perché ovviamente a me interessa sempre sapere qual è la vostra opinione concludo con questo video vi mando un bacio vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti